Allora, guardiamo un po' se siamo live, dovremmo essere partiti a regola, dovremmo essere partiti senza se e senza ma, così almeno siamo anche leggermente in anticipo, nonostante la partita sia in ritardo. Allora, buonasera a tutti ragazzi, allora facciamo un attimino così, guardiamo se mi sentite e mi vedete, perché abbiamo appena finito la live di consigli di fantacalcio e allora mettiamo su Telegram, guardiamo un attimino se siamo in diretta. Come sapete questa partita verrà giocata con 5 minuti di ritardo, ok mi sentite bene, allora Telegram lo blocchiamo su in alto, perfetto, così almeno c'è la possibilità anche di vedere gli highlights di questa partita. Ciao Edi, ciao Mirella, ciao ragazzi, benvenuti a chi sta entrando in questo momento, lasciate subito il pollicione in su, allora dovrebbero anche funzionare tutti i comandi vocali, guardiamo un attimino, facciamo una prova con Mannaggia, faccio un esempio. Mamma mia, Dio santo, Mannaggia. Perfetto, vanno i comandi vocali, quindi va anche il bot, l'abbiamo appena messo, intanto c'è il collegamento con lo stadio San Siro, come sentite proprio qui dal Milano con tutto il pubblico rosso-nero che questa sera sarà presente e soprattutto vorrà farsi sentire per la prima gara della serata e soprattutto questa 27esima giornata che si apre con il Milan. Un attimino ragazzi, facciamo un attimo così, perfetto, con il Milan che affronterà proprio l'Udinese, allora mettiamo un attimino anche il microfono per Benino, così almeno non dà noia, ok, mi vedete e mi sentite bene, un attimo. Riusciamo ad avere tutte le luci accese, perdonatemi, mi ero scordato di accendere l'ultima, quindi probabilmente mi vedevate. Allora, intanto le squadre stanno entrando quasi in campo, anzi sono dentro gli spogliatoi ancora, dentro il tunnel che porta a San Siro perché come sapete per protesta la Lega di Serie A ha indetto la partita che inizierà con 5 minuti di ritardo e quindi sono le 18.45. La gara doveva cominciare adesso ma inizierà alle 18.50. E allora andiamo a vedere subito le formazioni ufficiali dei due tecnici, del tecnico mister Stefano Pioli e del tecnico friulano Gabriele Cioffi, che quindi si affronteranno questa sera proprio l'uno contro l'altro. E allora andiamo subito con le formazioni ufficiali 22 che scenderanno proprio qui a San Siro al Giuseppe Meazza in Milano. Intanto salutiamo tutti i ragazzi nuovi che stanno entrando, allora facciamo anche così, ok, e soprattutto ci colleghiamo con YouTube. Mi metto anche la chat qui davanti a me così almeno non abbiamo problemi di sorta, nel senso che vi vedo a tutti e vi vengo a prendere uno per uno se c'è qualcosa che state scrivendo. Io ve lo vengo a prendere. Mi raccomando io vi chiedo gentilmente a tutti quelli che stanno entrando di arrivare almeno a 40 like per partire poi con la cronaca reaction per questa giornata, per questa partita, ok? Quindi partiamo poi in cronaca almeno a 40 pollicioni in su. Allora, perfetto, mi sono messo in questo momento anche i nostri messaggi, quindi vi vedo a tutti, ragazzi scrivete pure tranquillamente. Intanto saluto Sebastiano, ciao Vivali Delizia, ciao Mirella, ciao Sebastiano Caruso, nostro abbonato insieme a Davide Carloni. Ragazzi una preghiera, esatto Sebastiano, quello giustissimo. Volk io spero che tifi Milan come io faccio con la Fiorentina quando non gioca contro di noi. Esatto Davide, assolutamente io sono simpatizzante dei rossoneri. Solidarietà per l'Ucraina, bravo il vostro Depa. Ciao Edi, come mai in ritardo? Lorenzo perché ero a fare la live sempre qui su YouTube e anche sulla piattaforma Viola per i consigli di fantacalcio. Forza Milan, un saluto da Grado, da Grado da Robi. Grande Robi, benvenuto in live. Volk mi saluti, io non è il mio nome, visto che sto usando l'account di mia mamma. Ciao Samuel, benvenuto in live. Allora, andiamo a leggere quindi le informazioni ufficiali mentre voi state entrando e mi raccomando lasciate like e iscrivetevi in modo da essere sempre presenti e sempre attivi in ogni diretta, anche per le prossime. E allora, l'undici titolare dei rossoneri con Stefano Pioli che decide di mettere e di schierare Maignan in porta. Poi difesa a quattro con Calabria a destra, Tomori e Romagnoli due centrali e Teo Hernández a sinistra. La linea mediana con a destra Livoriano Frenchesi e a sinistra Lex Brescia. Il numero otto, proprio Sandro Tonali. I tre trequartisti è formato da Junior Messias, l'ex Crotone, Brian Diaz dietro all'unica punta Olivier Giroud e Rafael Leao a sinistra. Rispondere proprio Gotti e la squadra friulana bianconera con il 3-5-2 con Silvestri tra i pali. Difesa è in linea arretrata con Becao, Mari e Perez. Centrocampo a cinque, molto folto con Ziglar a destra. Arslan, Wallace e Mackengo gli interni di centrocampo e Molina a sinistra. Il tandem di attacco formato è composto da Beto e Deulofeu. Le due panchine intanto si stanno salutando il direttore di gara con le altre squadre che si danno il 5. Ci sarà anche lo scambio dei gagliardetti tra i due capitani. Vale a dire mister, anzi sì mister, un numero 13, Alessio Romagnoli e il numero 50, Rodrigo Becao che è appunto il giocatore brasiliano e difensore centrale dei friulani. Le panchine, andiamo a leggerle subito. La panchina del Milan formata da Bakayoko, Balloture, Castilleco, Florenzi, Gabbia, Kaluru, Krunic, Daniel Maldini, Mirante, Rebic, Salema Kerz e Tatarusanu. Gli indisponibili rossoneri sono Ben Nasser, Ibraimovic e Kier, ovviamente lo sapete per l'infortunio al ginocchio. Invece la panchina friulana è formata da Ballarini, Benkovic, Gasparini, Giaialo, Nestoroschi, Padelli, Pereira, Pussetto, Samarzic, Sopi, Sassus, Udoji. Gli indisponibili sono Nuitink e Santurro. Quindi è praticamente tutto pronto per questo fischio d'inizio qui a San Siro al Giuseppe Meazza. Siamo in 70 ragazzi, se volete lasciate un pollicione in su che arriviamo almeno a un centinaio di spettatori. Soprattutto arriviamo almeno a 40-50 like perché vi ricordo che almeno a 40-50 like noi partiamo in cronaca reaction. Quindi non ve ne scordate. Questa è la prima partita, la gara, l'anticipo della ventisettesima giornata. Intanto grande Loris, i comandi funzionano tutti Loris. Quindi dovrebbe andare tutto. Comunque vi dicevo 5 minuti di ritardo come sapete perché la Lega di Serie A ha protestato contro la guerra e quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia e di conseguenza partirà proprio adesso alle 18.50 quindi con 5 minuti di ritardo così come tutte le partite di questo fine settimana. Quindi anche stasera Genoa Inter partirà alle 21.05 e non alle 21 e tutte le gare in programma proprio per questa giornata. Intanto è tutto pronto perché c'è il direttore di gara e vi vado a dire proprio lui, l'unico che manca, che non vi ho detto, la terna arbitrale composta da Marchetti della sezione di Ostia Lido. I guardalini sono il primo Galetto e il secondo Di Vuolo. Il quarto uomo è Gariglio. Al VAR c'è Guida e all'Avar Carbone. Intanto un bellissimo peace, pace nel maxischermo di San Siro con tutto l'applauso dello stadio. Bellissimo questo gesto da parte della società rossonera e soprattutto della Lega di Serie A. E quindi anche il direttore di gara si è unito all'applauso di tutto San Siro. e siamo partiti con il primo possesso palla della squadra rossonera che attaccherà in questo primo tempo secondo la nostra postazione da sinistra verso destra con la classica divisa rossonera, strisce verticali, inserti i numeri bianchi, pantaloncini neri e calzettoni neri ma con bande centrali rosse. Attenzione, c'è subito un contatto in area di rigore, dubbio con Messias che finisce a terra ma lascia correre l'arbitro e riparte subito l'udinese andando ad attaccare da destra verso sinistra secondo la nostra postazione con la classica divisa come vedete qui accanto a me. Bianco-nera, strisce verticali, inserti i numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi. Quindi la formazione di Gotti che sarà la squadra ospite e soprattutto attaccherà come vi dicevo da destra verso sinistra. Così è la partita, così è cominciata subito con il primo contatto in area di rigore, Messias finisce a terra dopo essere stato toccato fortuitamente da Mari. Attenzione perché c'è il Milan che attacca sulla sinistra, capisce tutto, Becao che ruba il pallone. Attenzione, poi parte in velocità sul settore di destra, finisce a terra ma c'è una rimessa laterale proprio per il Milan, se non abbiamo visto male, che batte velocemente. Attenzione, il gioco si è spostato sulla destra, si fa a vedere Calabria che prova una verticalizzazione. In qualche maniera il fallo laterale guadagnato proprio dall'Udinese sul settore di sinistra perché Messias era andato in chiusura. Andiamo a vedere... no, nessun contatto. Era Rafael Leao, scusate, non Messias che era finito a terra, ma cercando di anticipare tutti anticipa di netto anche il numero 22, vale a dire... vale a dire Mari che si ritrova praticamente con il corpo del giocatore portoghese rosso-nero addosso. Quindi Pablo Mari non commette nessun fallo, giusto? Lascia accorrere il direttore di gara, come vi ho detto, il signor Marchetti di Ostia Lido. Lascia scorrere tutto regolare. Intanto, ragazzi, siamo giunti al secondo minuto e già i ritmi sono altissimi. Travertone dalla destra, il colpo di testa provato proprio dall'Udinese con questo spiovente, questo tentativo da parte di Beto che però la schiaccia troppo, il pallone poi rimbalza di fronte a Maignan che fa su alla sfera. Intanto, ragazzi, se vedete che leggermente sono in ritardo con la mia voce, il radar è più avanti di me, è perché, come sapete, ragazzi, Dasun è in delay di almeno una quindicina di secondi. Se voi volete un dato, io sono qui con Dasun a 21 e 35 in questo momento, mentre normalmente è il terzo minuto, ok? Quindi non vi preoccupate, tanto la seguite bene con il radar e quello che succede ve lo dico io in cronaca reaction. Ciao Luigi, benvenuti in live. Grande Loris, mi raccomando con questi like. Davide Carloni dice se mia nonna stava sulla panchina del Milan sicuramente era più forte dei nostri panchinari. Ciao Mirella, in questa partita ti fa l'Udinese ma io in realtà ti fa la Juve, dice Mirella. Ciao Marco, Marco Robertini. Walk, avresti potuto mettere la maglia del Milan? Allora, facciamo una cosa. Se arriviamo, ragazzi, a 130 like mi metto una maglietta del Milan, ve lo prometto. 130 like almeno, e allora mi metto la maglia del Milan, però a 130 pollicioni in su, visto che siamo in 120 e ancora siamo lontanissimi, siamo a 50 like ragazzi, potevamo già essere a 100 pollicioni in su, a 120, 130 like mi metto la maglietta del Milan, promesso. Intanto grazie a Lorenzo e a chi si sta iscrivendo ragazzi, perché apparite come vedete a schermo c'è la possibilità di fare degli abbonamenti a partire da 99 centesimi, anche con il credito del cellulare, se volete. E in più c'è anche la superchat, la possibilità di fare la superchat e di essere, appunto, di arrivare come primi su in alto in superchat e di essere i top donator. Intanto riprendiamo subito la cronaca reaction, perché c'è un fallo fischiato dal direttore di gara sul settore di sinistra, di fronte all'area tecnica di Mr. Gotti, messo a terra ad Amma Kengo proprio Tonali e quindi calcio di punizione rosso-nero, battuto velocemente, soprattutto riparte da dietro la formazione di Stefano Pioli, che si fa vedere ancora con Tonali giropalla della formazione allenata proprio dall'ex Fiorentina. Quando a San Siro comunque è una serata fresca, sì, fredda, ma non nemmeno troppo, sono intorno ai 6-7 gradi, intanto attenzione Pro Monbreck le ha in solitaria, poi un rimpallo favorevole all'Udinese, permette anche a Becao di mettere fuori il pallone, ma palla recuperata di nuovo e il possesso di palla dal Milan sul settore di destra nella metà campo Friulana, ancora con Calabria che si fa vedere e tocca corto in diagonale centralmente per Tonali che si tocca la spalla all'indietro l'ex Brescia per Tomori, ancora Tonali, poi Tomori si riparte ancora nella metà campo della squadra di casa con l'Udinese che è tutta dietro la linea del pallone nella propria metà campo, quindi non aspetta in maniera tranquilla la formazione di Stefano Pioli, ora avanza ancora la formazione di casa sul versante di sinistra, Teo Hernandez si abbassa a prendere il pallone vicino al limite del fallo laterale, poi è costretta ancora la formazione rossonera ad arretrare addirittura fino a Maignan con il retropassaggio, ha largato il gioco sulla destra, Tomori prova il lancio lungo attenzione perché scatta in avanti, proprio Messias, c'è Becao che fa buona guardia e permette all'uscita bassa proprio di Silvestri che fa su il pallone quasi al limite della propria area di rigore, siamo al minuto 6 e ancora il punteggio è fermo sullo 0-0 e la divisa di Silvestri è bellissima, la tuta dell'estremo difensore bianco-nero, tutta verde-acqua, verde-marina con le spalle color blu-nevi, blu-notte, mentre invece Maignan ha il colore, se non ho visto male il completo dovrebbe essere verde-fosforescente, intanto c'era anche un fallo da parte di Brian Diaz su Makengo all'altezza proprio della linea che delimita il centrocampo di fronte alle aree tecniche di mister Cioffi e Pioli, secondo la nostra postazione, quella di Cioffi è sulla sinistra, quella di Pioli sulla destra e c'è anche una buona cornice di pubblico, nonostante comunque anche l'orario non sia proprio dei migliori per i tifosi e quindi diciamo che è una buona, buonissima cornice di pubblico. Ciao Walk, speriamo di vincere stasera, porta fortuna al Milan come sempre, grande by la dance, benvenuto in live, su ConstiLike le mettete per le cavolate, almeno per le cose serie, è d'obbligo, dice Davide Carloni, grande Davide, nostro abbonato, fantastico, grande Tommaso, ciao Alex, attenzione perché scatta l'Udinese con questo lancio lungo in verticale sulla destra, il pallone messo nel mezzo e la gran chiusura in calcio d'angolo, in scivolata di Tomori che anticipa Beto, che si era portato praticamente centralmente al limite quasi, al limite sì, sul cerchio, sul dischetto del penalty, Mattomori anticipa Deulofeu e Beto che si erano fatti vedere con questo pallone dato perfettamente sul lato di destra da Molina che era andato in sovrapposizione e quindi corner il primo della gara per la formazione friulana, attenzione, serie di blocchi dentro i 16 metri, parte lo spevente, palla dentro, la palla che si alza a campanile perché prima sbatte sulla schiena di Romagnoli e poi sulla testa di Becao e la mette fuori ancora il Milan, ma attenzione perché comunque l'Udinese si era fatta vedere con questo contropiede pericolosissimo, ancora la squadra friulana in possesso, lancio lungo in profondità, scavalcare la difesa, ci riesce, si fa vedere ancora Beto che mette pressione e sbaglia il retropassaggio, attenzione Calabria e regala ancora il calcio d'angolo per l'Udinese, il secondo consecutivo e il secondo della partita dalla bandierina bassa del settore di sinistra, mette pressione proprio Beto e Calabria che stava facendo una frittata dalla propria area di rigore, anzi dal proprio lato corto dell'area di rigore mettendo un retropassaggio in diagonale sbagliato e allora andiamo con questo corner, seguiamolo, comunque è gialla fosforescente, è il completo di Maignan, non verde, gialla fosforescente, quasi tendente al verde verdolino, Deulofeo sul punto di battuta a parte, il travertone teso è tagliato sul primo palo, la mette fuori e si salva ancora il Milan, ma la recupera l'Udinese che poi sperde la palla, bravo Brian Diaz, bravissimo lo spagnolo, poi anche a eludere l'intervento di due uomini friulani in qualche maniera, si guadagna una rimessa laterale, la squadra di Stefano Pioli con Leao battuta velocemente, dai ragazzi con questi like appena entrate non vi scordate di iscrivervi al canale se volete vedere altre live reaction di questo tipo, domani sera saremo con Sassuolo Fiorentina qui in live reaction, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo, non vi scordate di iscrivervi e di lasciare like, appena entrate siamo in 230, vi ricordo a 130 like mi metto la maglietta del Milan almeno, lancia lungo, attenzione in verticale per l'arrivo di Olivier Giroud che poi resiste ad una carica, fa sportellate proprio con Wallace, se non ho visto male Perez, ancora poi il Milan con il francese che mette un pallone in diagonale al limite dell'area di rigore ma fa buona guardia ancora la squadra ospite e riparte in velocità con De Lofeu sulla corsia mancina nella metà campo rossonera, verticalizzazione per Beto, ma c'è la chiusura di Tomori che capisce tutto e anticipa il giocatore brasiliano e fa ripartire l'azione da difensiva in offensiva, siamo già nella metà campo friulana sul settore di sinistra con di destra scusate con Tonali che allarga per Messias, Messias che punta a Machenko che rientra intanto tutta squadra bianconera e già dietro alla linea del pallone, i reparti sono molto corti, soprattutto il centrocampo e la difesa, rimangono i terminali offensivi, i due De Lofeu e Beto, intanto palla persa in un primo momento dallo scatto improvviso di Leao che poi allarga sulla sinistra, prova a mettere un traversone nel mezzo proprio il Milan con Theo Hernandez che si guadagna un calcio d'angolo, il primo della partita per la squadra rossonera, è andato in chiusura se non abbiamo visto male proprio Molina, no era Arzlan che ha messo il fisico nel mezzo, quindi calcio d'angolo, bandiera in alta del settore di sinistra sotto la curva sud, serie di blocchi dentro i 16 metri, anche che si è Leao nell'area piccola a dare fastidio a Silvestri, Tonali sul punto di battuta, 11 sul cronometro, battuto corto, Theo Hernandez ci prova con il sinistro a mettere un traversone nel mezzo, palla che rimane ancora lì in qualche maniera, poi attenzione palla persa dal Milan ma c'era una posizione di fuorigioco segnalata dal primo assistente del direttore di gara, il signor Galetto che alza la lavagnetta luminosa perché il cross era stato sempre dal lato corto dell'area di rigore su questo corner battuto corto da Tonali ma il cross era stato di Theo Hernandez, poi il pallone si alza a campanile perché va a sbattere proprio contro la schiena di Molina che era andato in chiusura e il pallone ritoccato di nuovo da Tonali e da Theo Hernandez che la dà al numero 8 ex Brescia che però era al di là della linea difensiva bianconera e quindi calcio di punizione per l'Udinese quando siamo giunti al dodicesimo minuto ragazzi siamo quasi in 300 mi raccomando lasciate like e iscrivetevi perché possiamo arrivare subito almeno a 120-130 like immediatamente attaccate, attenzione l'Udinese sempre sul lato corto di destra si fa vedere proprio De Olofeu doppio passo entra dentro prova a calciare molto defilato quasi all'altezza della linea di fondo e lo spagnolo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e fortunatamente l'ex Wolverhampton la calcia sul fondo al lato senza neanche prendere l'esterno della rete gran chiusura comunque c'era stata sulla fascia sinistra proprio del duo Theo Hernandez e Romagnoli quest'ultimo il capitano era andato in chiusura proprio per il tiro con il destro di De Olofeu che si era fatto vedere ora attenzione perché si distende sulla sinistra il Milan è già un cambio di fronte cioè i cambi di possesso palle di fronte ribaltamenti veramente in maniera assurda da una parte e dall'altra i ritmi sono molto ma molto elevati in questi primi tredici minuti Omar è davvero pieno stamattina poi praticamente una live su due ora di quel tipo Omar che è successo chi non si iscrive al canale non arriva a Natale giusto no Davide questa no era un pochino troppo eccessiva mi dissocio ragazzi no Davide ti voglio bene perché lo so che lo scrivi perché vuoi che i ragazzi mettano like e che si iscrivano grazie al nostro abbonato Davide cosa ne pensi della cosa priva d'umanità che sta Omar ho sentito il tuo vocale prima ed è una cosa veramente vergognosa ti dico la verità quello che sta succedendo sui social su tiktok ma su tutto quello che vedo che mettono gli sfondi di Kiev o di queste cose qui che fanno finta di essere lì veramente vergognosi stare lì che per due soldi come hai detto te hai detto benissimo nel vocale per due soldi la gente venderebbe veramente anche la sua famiglia o farebbe carte false veramente disgustosa questa cosa Omar ti dico la verità ho visto che ci sono molte live però mi era sfuggito e facevano eh esatto sì ma anche se fai Loris anche se prendi i soldi e le dai in beneficenza non puoi andare a cercarli di prendere con finte live e dietro di te come faccio io con un green screen magari metti lo sfondo di Kiev o dell'Ucraina cioè veramente vergognosa una cosa del genere anzi dovreste segnalarle ragazzi cioè perché non si non si non si sta qui veramente a giocare con la vita altrui soprattutto in queste situazioni cioè siamo nel 2022 cioè veramente dovrebbe essere una cosa umanitaria un'emergenza umanitaria e dovremmo essere tutti vicini e fare la nostra parte con quello che possiamo non diciamo fare scarpetta su una cosa veramente vergognosa che sta succedendo dopo una pandemia ci voleva pure una guerra comunque ritorniamo al calcio giocato ragazzi perché c'è il Milan ora che attacca sempre sul centro-destra nella metà campo Friulana addirittura si ritorna sul cerchio di centro-campo dove cerca di palleggiare di farsi vedere Romagnoli che verticalizza per Brian Diaz tocca corto per Leao che poi punta a Wallace verticalizzazione ma l'ultimo tocco è proprio del numero 11 che la sfiora solamente palla recuperata ancora dal Milan che entra in area di rigore sulla destra con Calabria attenzione la palla mezza nel mezzo per Messias all'altezza del dischetto dell'area di rigore e si chiude a Riccio la formazione di Gotti e riparte in contropiede attenzione perché c'è De Olofeo subito nella metà campo rosonerà verticalizzazione per Beto che mette a sedere Tomori che si rialza e con il piede sinistro in qualche maniera in caduta libera riesce a togliere il pallone a Beto che si stava coordinando con il destro per calciare a rete ma ancora attenzione attacco pericoloso della squadra Friulana sempre sul centro-sinistra vertice alto dell'area di rigore punta al numero 10 Calabria lo salta in un primo momento sterzando sulla sinistra ma poi ritorna sui suoi passi dà il pallone indietro di nuovo al proprio compagno Ziegler numero 4 poi Maken Goh aiutato ancora da Ziegler e il pallone in rimessa laterale l'ultimo tocco è proprio dell'estremo sinistro e il numero 4 Marvin Ziegler l'olandese e quindi rimessa con le mani Tusch in zona di difesa per il Milan siamo sulla corsia di destra proprio di fronte alla tribuna d'onore con tutta la curva sud che si sta facendo sentire intanto Giroux poi non controlla il pallone palla regalata di nuovo all'Udinese smorpia di disappunto dell'attaccante francese intanto ragazzi grazie a chi si sta iscrivendo e grazie ai pollici in in su rimessa laterale per l'Udinese sul settore di sinistra pallone per Ziegler anzi Beto scusate Beto che rimane in piedi due volte poi parte ancora il Milan in contropiede con Brahim Diaz attaccato anche la profondità attaccata la profondità con questa verticalizzazione sulla destra e c'era sia Brahim Diaz sia anche Olivier Giroux che erano stati atterrati e c'è un cartellino giallo per la squadra friulana guardiamo un po' che ha deciso di ammonire Marchetti Brahim Diaz che ruba il pallone a Beto prova a saltare di netto il numero due Noyen Perez e anche il blocco di Deulofeu la palla arriva a Giroux che viene atterrato di nuovo ma il primo fallo è quello buono è quello punito da Marchetti dal direttore di gara e c'è anche quindi il cartellino per Perez e quindi il terzino sinistro argentino Neyun Perez il classe 2000 il 22enne e quindi si riprenderà con un calcio di punizione comunque i fischi gli spettri che sono tornati di nuovo a San Siro con questo fischio c'era la norma del vantaggio che poteva essere anche attuata con il pallone dato subito in verticale sul lato corto dell'area di rigore di destra e infatti è stato fischiato il fallo l'ammunizione ma c'è stato un grappolo di uomini rosso-neri subito intorno al direttore di gara proprio perché non volevano che il fallo fosse stato fischiato in quella maniera proprio perché c'era il vantaggio e diciamo che da questo punto di vista si sono rivisti un po' gli spettri della partita contro lo Spezia sempre qui a San Siro che vi ricordo a tutti come finì 2-1 per la squadra bianconera con Messias invece che aveva segnato anzi due minuti prima non 5 minuti due minuti prima al novantesimo su un pallone vagante dentro il cuore dell'area di rigore con il sinistro aveva battuto proprio l'estremo difensore Provedel e il Milan avrebbe vinto quella partita e invece niente da fare intanto c'è una segnalazione di fuorigioco per l'Udinese con Deulofeu che era stato lanciato in verticale dal lato corto di sinistra proprio da un colpo di tacco tentato da Makengo a liberarlo ma scusate di Ziggelar scusate non di Makengo che era accanto al numero 4 e Deulofeu però al di là della linea difensiva siamo al minuto 19 sul cronometro e ancora persiste la parità a San Siro 0-0 tra le due formazioni e allora ragazzi io mi vado a fare anche un betting ragazzi giocate solo se maggiorenni giocate responsabilmente non ve lo dico cioè ve lo dico sempre mi raccomando intanto attacca ancora Almina il pallone in verticale per Leao che entra in area di rigore di filato prova a calciare con il sinistro ad incrociare ma c'era posizione di offside segnalata dal primo assistente di Marchetti che alza la bandierina e quindi Galetto con un po' di ritardo dice che Leao con questo pallone filtrante è partito al di là della linea dei difensori bianconeri grazie per gli applausi Loris grandissimo grandissimo il nostro Loris abbonato e moderatore numero uno allora Milan Udinese io vado a giocare così guardiamo un po' e poi io la vedo io vedo una partita così guardiamo se avrò ragione intanto si giocano due anticipi delle milanesi ragazzi ma lo sapete spero penso tutti si giocano sia il Milan che l'Inter stasera le gare proprio perché martedì e mercoledì ci saranno le prime gare quindi le andate delle semifinali di Coppa Italia Milan Inter e Fiorentina Juventus quindi solo per farvi capire che questi anticipi del venerdì non sono stati fatti per caso sono stati fatti in previsione proprio delle gare che si giocheranno e porteremo qui in live eh ragazzi porteremo in live proprio con gara di andata e di ritorno della Coppa Italia ragazzi 150 like aumento i like per mettermi almeno la maglietta del Milan 150 160 like mi metto la maglietta del Milan dei rossoneri però ci dobbiamo arrivare a 150 like entro la fine del primo tempo perché mancano 25 minuti e siamo più di 350 ragazzi quindi se volete dateci una mano per crescere con le iscrizioni e con il vostro sostegno intanto salutiamo anche Martins benvenuto in live ciao Elena poi salutiamo anche Thomas Walk sto guardando la tua live la cronaca di Tiziano Crudeli grande grazie infinite al nostro Peppe grandissimo eseguito l'upgrade del nostro Peppe e anche proprio lui il nostro Peppe è amministratore del gruppo di Telegram a proposito perché stasera ragazzi poi ci saranno anche i gol e gli highlights e il nostro Peppe che ci aiuta anche nella nostra fantawalk.it nel nostro sito e la nostra redazione grande Peppe grazie infinite vi metto Telegram dove potrete vedere tutti gli highlights e i gol di questa partita e anche stasera dell'Inter e di tutte le gare di Serie A grazie a un bot presente proprio nel nostro gruppo dove siamo in più di 1300 il gruppo nasce per parlare di calcio fantacalcio di consigli di news avete le notizie anche del nostro sito fantawalk.it che vi invito a seguire e soprattutto ragazzi Instagram ok quindi tutti i social ve li metto in chat vi metto i link da cliccare per entrare intanto attenzione perché c'è il Milan che ora ci prova e si guadagna un fallo laterale proprio in ottica offensiva sul settore e sul fronte offensivo di destra anzi un calcio d'angolo perdonatemi il secondo e quindi si pareggia nel numero dei corner due corner a due se non ricordo male dalla bandierina bassa del settore di destra salgono le torri traffico nel cuore dell'area di rigore Friulana Messiaso sul punto di battuta c'è Tonali vicino guardiamo un po' gliela dà proprio a Tonali un po' sul vertice basso c'è Brian Diaz che mette un pallone spiomente nel mezzo ma c'è l'uscita alta proprio di Silvestri che poi raccoglie il pallone attenzione perché probabilmente cerca un lancio lungo guarda tutti i compagni di squadra e guardiamo un po' che cosa decide eccolo qua il lancio lungo infatti proprio sul cerchio di centrocampo per Deolopeo che fa sportellate con Calabria ma c'è una segnalazione di fuori gioco e quindi il calcio da fermo grande Peppe grandissimo ti ringrazio dai unitevi su Telegram grande Peppe grazie infinite anche per il tuo sostegno come sempre e soprattutto per l'abbonamento a proposito visto che ha fatto l'upgrade Peppe a 1,99 chi ha l'abbonamento e la sub a 1,99 quindi il mini walk il piano mini walk puoi venire una volta ci organizziamo e si fa una live insieme in cronaca reaction ve lo ricordo per tutti gli abbonati con l'1,99 con il mini walk avete questa possibilità oltretutto anche tanti vantaggi prossima settimana faremo la riunione con tutti gli abbonati con tutti i sub per parlarvi dei nuovi progetti e anche per conoscermi in privato per chi non mi conosce ok detto questo andiamo in cronaca perché siamo al 25esimo attacca ancora il Milan messo a terra Brian Diaz sul settore di sinistro e viene fermato in maniera irregolare secondo Marchetti che fischia il fallo e la punizione conquistata dallo spagnolo Rodrigo Becao va con il fisico e soprattutto in maniera fallosa a tirarlo giù allo spagnolo con il numero 10 e quindi seguiamo questo calcio da fermo punizione interessante dall'estremo out di sinistra siamo lontani dalla porta difesa da Silvestri intorno ai 30 metri molto larghi sul fronte offensivo di sinistra ci sono Teo Hernandez e Tonali al limite ben 6 uomini rossoneri e tutta la difesa schierata della formazione di Gotti fischia l'arbitro guardiamo guardiamo se parte uno schema oppure uno spiovente all'interno dell'area di rigore è uno schema attenzione il pallone per Calabria che poi prova uno spiovente in verticale a cercare Messias brutto schema del Milan infatti viene fischiato anche da tutto San Siro cioè dalla sinistra si sono passati corto il pallone Tonali e Teo Hernandez poi Tonali ancora per Calabria verticalizzazione del numero 2 alta e profonda per nessuno nel cuore dell'area di rigore movimento strano a mezzaluna di Messias per liberarsi da qualche marcatura ma la sfera che si perde addirittura sul fondo senza neanche essere toccata da nessuno lì davanti allora diciamo così allora ma le big italiane stanno dimostrando di non essere un gran che ho paura che l'Italia si sia tutta sotto gli altri big campionati europei ma sì Lucas diciamo che non è nuova questa cosa diciamo che non è nuova che la nostra Serie A non è il campionato principe europeo rimane sempre la Premier League Premier League e c'è la Spagna e poi forse ci siamo noi intanto riprendiamo perché c'è lancio lungo in profondità ancora per il Milan sponda di Olivier Giroud all'indietro ancora per Brian Diaz pallone per Calabria che si fa vedere al limite depilato sulla destra calcia raso terra sul palo più lontano c'era stata anche una deviazione probabilmente ci sarà calcio d'angolo per il Milan con Calabria che si porta in sovrapposizione in avanti leggermente depilato sulla destra al limite lascia partire un diagonale con il destro che rimbalza tre volte prima di finire sul fondo no non c'è stato nessun tocco nessuna deviazione di Perez e quindi rimessa dal fondo proprio per la squadra ospite comunque per la questione Zenit e Dynamo Kiev io sto un po' Mattia ma tutti Volk sei un po' Mosho stasera? no assolutamente Baila Dance per quale motivo? no no io sto benissimo non so per quale motivo mi vedi Mosho sono io sono io ragazzi assolutamente magari ho fatto la live prima ho fatto la live subito prima di incominciare con Milan Udinese sarò leggermente stanco perché abbiamo fatto la live di consigli di fantacalcio intanto il microfono sembra abbia brillantini non so che cosa è successo comunque si si no no ci sono ci sono Deulofeu ex no Mattia Deulofeu se non mi ricordo male ha giocato una stagione nel Milan io credo verso il 2016 2017 andiamo a vedere fatemi vedere un attimino una stagione l'ha fatta sono quasi sicuro eccola qua 2016 2017 mamma mia ragazzi che testa me la ricordavo pure 17 presenze 4 gol e 3 assist per lui e poi l'anno dopo passò al Barcellona in Liga Santander poi 3 anni al Watford e 2 anni ormai da 2 stagioni all'Udinese si si nato e cresciuto nelle giovanili nella cantera del Barcellona dei Blaugrana si si Gerard Deulofeu ragazzi me lo ricordavo se lo ricordano credo un po' tutti ormai vista la partita e le partite che sta facendo nella propria squadra nei Friulani detto questo riprendiamo con la nostra cronaca reaction vi ricordo che di provare ad arrivare almeno a 150 like entro la fine del primo tempo ve lo ricordo perché a 150 like io vi porto anche vi porterò vi metterò anche la maglietta del Milan intanto attenzione perché c'è la squadra rossonera ora si fa vedere in avanti prova a palleggiare Frankessi porta palla poi allarga sulla sinistra per Teo Hernandez ancora il francese che converge verso il centro con 4 tocchi pallone corto per Calabria che allarga sulla destra per Tonale attenzione numero 8 mette un pallone spiovente dentro per Leao Leao il pallone nel mezzo c'è il gol di Rafael Leao il vantaggio del Milan gran gol del portoghese che riesce a controllare benissimo il pallone sul secondo palo l'assist e lo spiovente dal vertice quasi basso dell'area di rigore dal limite di Tonali a cercare proprio con questo spiovente millimetrico per il grande stop il grande controllo del portoghese Leao che lo mette giù con il destro e poi agganciandosela si gira su se stesso e batte in uscita bassa proprio Silvestri che gollasso ragazzi che gollasso mamma mia in area piccola dal vertice alto dell'area di rigore stoppa il pallone con l'esterno destro se la mette giù e poi con di controbalzo con l'interno destro batte proprio un incolpevole Silvestri Ludinese che aveva anche protestato per un contatto dubbio con Rodrigo Becao che era finito a terra il numero 50 e il capitano della formazione bianconera ma non c'è niente e quindi cambia il punteggio allo stadio Giuseppe Meazza a Milano in San Siro mezz'ora e ha segnato il Milan con il solito Rafa Eleao all'ottavo gol stagionale in Serie A e tanto per cambiare ragazzi è il giocatore dal momento d'oro Rafa Eleao e quindi passa in vantaggio il Milan con uno splendido assist del classico ormai Tonali che l'anno scorso era inguardabile quest'anno oltretutto si è si è diminuito l'ingaggio e sta facendo un'annata spettacolare ragazzi anche in previsione della nostra nazionale Sandro Tonali che palla morbida sul palo più lontano all'altezza del vertice alto dell'area piccola come vedete qua nella grafica ha stoppato il pallone allungandosi con l'esterno destra e poi girandosi su se stesso verso la porta di controbalzo con l'interno destro l'ha messa sul palo più lontano Silvestri non ci ha potuto fare niente nonostante sia provato a uscire in presa bassa e a chiudergli lo specchio della porta ma Leao è più veloce più abile e soprattutto rimane in piedi anche con fisicità con Becao contro Becao anzi ragazzi tra poco uscirà nel nostro gruppo di Telegram il gol e ve lo potrete rivedere ragazzi vi metto anche Instagram se vi fa piacere siamo in più di 400 mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva non vi scordate se volete altre live reaction mi raccomando grazie infinita a chi lo farà perché possiamo arrivare almeno a 200 pollicioni in su entro la fine del primo tempo che ce l'abbiamo dai 200 like e mi metto subito anche la maglietta del Milan per il secondo tempo intanto grazie a chi si sta iscrivendo perché mancano veramente pochi iscritti anche ai 22.000 siamo per i 22.000 quindi ragazzi mi raccomando voi intanto entrate nel gruppo di Telegram aperto a tutti per vedere gli highlights e i goal non vi scordate che se uscite c'è il bot che vi blocca e vi banna e non potrete più rientrare in futuro quindi una volta entrati sul profilo di Telegram sul nostro gruppo aperto a tutti dove siamo in più di 1300 è il gruppo della community state con noi e silenziatelo se lo volete silenziare perché se uscite lo sapete non potete più rientrare in futuro io ve lo dico perché almeno in tanti mi hanno scritto messaggi poi in privato ma perché non riesco ad uscire a rientrare scusate perché 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 per questo non uscite a entrare ragazzi per questo entrate nel gruppo Telegram e silenziatelo tanto quando volete guardate gli highlights di tutta la serie A della Champions League dell'Europa League della Coppa Italia quindi se non avete la possibilità di vedere la partita perché non avete Sky o Dasuna entrate su un gruppo di Telegram abbiamo un bot apposta quindi il link ve l'ho messo in chat comunque il messaggio fissato in alto intanto ancora calcio d'angolo guadagnato dal Milan con Messias che viene anticipato con questo pallone filtrante dato in verticale ancora da uno splendido Brian Diaz stasera sembra indiavolato sembra tornato il Brian Diaz di 20 partite fa quando segnò calcio d'angolo bandierina bazza del settore di destra con il terzo corner se non ricordo male terzo corner per i rossoneri andiamo a vedere bandierina bassa settore di destra c'è Tonali e Messias sul punto di battuta battuta subito sul primo pallo ti sei tagliata in qualche maniera ora è l'Udinese si salva ma c'è poi lo scontro tra Tonali e Brian Diaz che erano andati tutti e due sul pallone e in qualche maniera poi la palla carambola il fallo laterale addirittura vicino a Stefano Pioli che stava quasi per essere investito dall'arrivo in corsa di Deulofeu rimesso laterale Milan battuta velocemente sempre sul settore di destra Messias però viene fermato dal grandissimo intervento di Mackengo e Ziglar che aiutate anche da Perez fermano tutto fanno ripartire l'azione difensiva in offensiva attenzione perché c'è subito lo scatto dell'Udinese in avanti nella metà campo rossonera ancora con il numero 16 ci vale a dire Molina che allarga sulla destra perde Olofeu vertice alto dell'area di rigore lo spagnolo ancora scambia con Becao che si fa vedere in sovrapposizione prova a mettere un traversone raso terra nel mezzo Romagnoli li chiude la porta in faccia a due volte proprio al numero 10 spagnolo e poi in ripartenza rimessa laterale guadagnata dal Milan sul settore di sinistra vicino alla linea che delimita il centrocampo la linea mediana e quindi Tuch e rimessa con le mani per i rossoneri intanto grazie a Gianluca per l'iscrizione grazie a Peppe per la sub e soprattutto un bacione un abbraccione per aver fatto l'upgrade al mini walk come abbonamento ringrazio Francesco Andrea Vincent CS Manuel Federico grazie ragazzi che vi state iscrivendo al canale mi raccomando se volete altre live reaction iscrivetevi con la campanella attiva e soprattutto seguiteci su Telegram per vedere gli highlights e i goal e Instagram ok quindi entrate sul gruppo di Telegram il gruppo è aperto a tutti ciao al nostro Roberto Roberto Merlini anche lui è abbonato grande Roby buonasera a tutti come stai grande grande Roby benissimo grazie grandissimo mi fa piacere quando vi vedo vi vedo a tutti che state entrando dai arriviamo a 180 190 like immediatamente su ragazzi che ce la possiamo fare ce la potete fare intanto attacca il Milan ancora tanto per cambiare sulla sinistra ormai ha fatto tutto da solo le hao e si guadagna anche un calcio di punizione viene fermato con le cattive il portoghese che per esultare sul gol dell'1-0 ha fatto anche un balletto sotto la curva sud un balletto un po' strano un balletto un po' alla brasiliana più che alla portoghese quasi come se ballasse la samba intanto Raffaele che rimane ancora a terra il calcio di punizione guadagnato dal Milan sul settore di sinistra sul fronte offensivo mancino come vedete nella metà campo friulana allora grandissimi ragazzi ciao Vince ciao Vincenzo benvenuto in live chi sta entrando non vi scordate di iscrivervi con la campanella attiva e di lasciare i like per sostenerci anche perché ragazzi più lasciate like più entrano persone nuove che magari non possono seguire la partita ok e magari ci conoscono quindi fatelo anche per noi dai che arriviamo a 200 like siamo in più di 400 almeno la metà di voi che mettono like ragazzi non vi chiediamo tanto calcio di punizione dall'estremo alto di sinistra Teo Hernandez sul punto di battuta 37 sul cronometro e San Siro che si sta facendo sentire vi ricordo che Milano è ritornata al 75% di capienza da domenica scorsa come tutti gli stadi italiani parte lo spavente dalla sinistra di Teo Hernandez la mette fuori proprio Machenko ha aiutato anche da tutta la retroguardia poi c'era stato un tiro da lontanissimo di Calabria ribattuto e il Milan la recupera di nuovo sempre sul versante di sinistra fa tutto da solo il numero 19 Teo Hernandez il pallone di ritorno di Brahim Diaz il triangolo provato dai due ma non si chiude ancora però Sfera e possesso recuperato dal Milan sulla sinistra sempre con Leao verticalizzazione per Teo Hernandez che finisce a terra in qualche maniera poi l'Udinese prova a ripartire in contropiede ma rimane sempre giù il francese il terzino sinistro della formazione di casa e quindi con Fairplay mette il pallone in rimessa laterale Becao e quindi si riprenderà con il possesso palla e la tush la la tush e anche la rimessa con le mani per il Milan che ridarà il pallone con molta probabilità anzi sicuramente con Fairplay all'Udinese che aveva messo fuori il pallone proprio perché Teo Hernandez era rimasto vittima di un intervento duro proprio del brasiliano con il numero 50 pochi secondi fa che squadra ti fa Walk Sebi sono un tifoso della Fiorentina ragazzi ciao Walk appena arrivo come va il Milan oggi gioca bene sta giocando molto bene Alessandro sta praticamente dominando l'Udinese ha creato qualche scompiglio soprattutto sulle fasce con Deulofeu sulla fascia destra e in un paio di occasioni si è fatto vedere anche Ziegler aiutato anche da Perez sulla fascia sinistra Deulofeu però è uno di quelli molto ma molto più incisivi svaria molto da sinistra verso destra si fa vedere su entrambi i corridoi laterali e in un paio di contropiedi l'Udinese ha dato fastidio alla retroguardia rossonera soprattutto in un'occasione dove Tomori si è immolato letteralmente in scivolata togliendo il possibile vantaggio a Beto che era stato pescato da Molina con un rato terra chirurgico dalla destra e se non avesse fatto quella scivolata avesse messo il pallone in calcio d'angolo con molta probabilità Beto sarebbe stato da solo centrale nel cuore dell'area di rigore a tu per tu proprio con Maignan e a quel punto sarebbero stati dolori per i rossoneri intanto ha ripreso il gioco ragazzi ha ripreso il gioco con il pallone ridato a Silvestri da parte del Milan con gli applausi di San Siro per il fair play che per il momento non sta mancando vi ricordo che c'è un solo ammonito si tratta di Perez che ha finito nel taccuino dei cattivi del direttore di gara il signor Marchetti della sezione di Ostia Lido per il momento arbitra molto tranquillamente perché non ci sono stati grossi episodi dubbi o comunque grossi episodi di strani possiamo dire e di conseguenza partita che per il momento fila liscia come l'olio ciao Donato benvenuto in live poi ciao mi saluti ciao Paolo benvenuto in live mi riserve il link del gruppo di Telegram Giancarlo te lo stanno mettendo i ragazzi moderatori mi mettete il gruppo di Telegram a parte ve lo metto anch'io ragazzi eccolo qua ve l'ho appena messo intanto attacca l'Udinese attenzione perché vertice alto dell'area di rigore si fa vedere la formazione bianconera con De Lofeo che la dà indietro poi il pallone messo nel mezzo coppa di testa di Beto centrale e soprattutto la blocca addirittura aveva anticipato anche Tomori con questa incornata a Beto il brasiliano che non riesce però ad imprimere troppa forza colpo di testa debole centrale fortunatamente Magnan è posizionato bene la blocca ma ancora pericolo per il Milan che in questi ultimi minuti di primo tempo si è un po' lasciato stare si è un po' seduto sugli allori dopo il vantaggio anche se prima frazione molto meglio il Milan che l'udinese allora Walk è tifoso della viola ma porta fortuna al Milan dice vai la dance grazie mille Walk sempre preciso grande Alessandro grazie infinite mi raccomando se volete volete stare con noi soprattutto aiutarci di arrivare almeno a 200 like entro la fine del primo tempo ragazzi su che mancano 20 like intanto attacca il Milan attenzione ribaltamento di fronte subito al limite dell'area di rigore c'è due volte proprio Ziglar che toglie letteralmente il pallone dai piedi dei rossoneri fa attenzione tonali centralmente dalla tre quarti prova un pallonetto dentro il cuore dei 16 metri friulani per Olivier Giroud poi fantastica qui la chiusura della retroguardia di Gotti che riparte in contropiede si guadagna anche un calcio di punizione con Messias che decide di mettere a terra con il fisico e con una trattenuta proprio Mach&Go il numero 6 e quindi si riprenderà con il calcio di punizione udinese ragazzi vi state iscrivendo con la campanella attiva se siete nuovi non ve ne scordate perché almeno ci date una mano anche per quello perché siamo quasi arrivati a 22.000 iscritti e ne potremmo festeggiare in questi giorni ok intanto c'è il vantaggio del Milan sul gruppo di Telegram se vi fa piacere vi rimetto il gruppo aperto a tutti ma il gruppo ragazzi soprattutto entrateci per parlare con tutta la community non solo perché ci sono gli highlights ragazzi ve lo ripeto ve lo dico per tutti i nuovi perché è un gruppo dove si parla di tutto e di più ok quindi mi raccomando detto questo ritorniamo a noi ritorniamo alla nostra partita perché mancano veramente pochi secondi al fischio al duplice fischio del primo tempo di Marchetti 43esimo sul cronometro 120 secondi ancora da giocare l'Udinese si guadagna un calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo con Brian Diaz che trattiene proprio Perez anzi Arslan scusate il giocatore tedesco Tolga e Arslan e quindi si riprende con questa rimessa subito con i piedi dobbiamo chiudere la partita altrimenti prima o poi ci fregano facciamo il 2 a 0 dice Alessandro poi io ci sono entrato grande Giancarlo grandissimi entrate nel gruppo di Telegram ragazzi e non uscite vi dico quando entrate sappiate che se uscite c'è un bot che vi blocca e vi banna quindi silenziatelo in alto a destra ci sono tre puntini in verticale ci cliccate metti silenzia gruppo così non c'è problema entrate quando volete se non volete ricevere tutte le notifiche o comunque magari i messaggi che scrivono i ragazzi lo silenziate ragazzi ok 44esimo attacca l'Udinese adesso che porta palla con Deolo Feu fermato bravissimo qui Messias che poi tenta un dribbling di troppo su Maken Go che recupera di nuovo il pallone la mette all'indietro ancora attacco dell'Udinese che si fa vedere sul centro-sinistra lo Spagnolo che salta due uomini rimpallo favorevole ancora la formazione di Gotti con Maken Go che si fa vedere sul fronte offensivo di sinistra con il Mancino mette un pallone nel mezzo il colpo di testa provato da Becao che era arrivato da dietro ma alto sopra la traversa il capitano dell'Udinese ci ha provato con questo spiovente con questo tentativo dall'out di sinistra da parte del numero 6 bianconero ma non c'è appunto lo specchio della porta su questa incornata e quindi si rimane sull'1-0 Milan quando guarderemo quanto sarà l'entità del recupero che vorrà concedere Marchetti e guardiamo anche il quarto uomo come alzerà la lavagnetta luminosa vi ricordo che il quarto uomo è Gariglio intanto palla recuperata ancora dal Milan che ci prova verticalizzazione ma c'è la buona chiusura di Rodrigo Becao e attenzione perché c'è il contro break dell'Udinese vertici alto dell'area di rigore pallone filtrante ancora per il traversone rasoterra di Molina che era arrivato sul fondo dentro l'area di rigore milanista e poi in qualche maniera si salvano i rossoneri che ripartono in contropiede ancora con Teo Hernandez sulla corsia di sinistra siamo all'altezza della linea mediana di campo sterza e si riaccentra fa fuori proprio Arslan mette il pallone centralmente per Leao doppio passo del portoghese che poi perde il tempo per dare il pallone a Brahim Diaz che non ritrova più la sfera e si salva ancora l'Udinese si sono allungate tantissimo le squadre in questo finale di primo tempo ora Deulofeu che punta proprio Calabria lo salta di netto con la sterzata a destra arriva al limite converge prova ad entrare nell'area di rigore ci riesce molto defilato però non può fare niente punta Romagnoli attenzione arriva sul fondo serie di finte ancora prova a mettere un pallone nel mezzo fortunatamente è delicato e centralmente per Maignan e attenzione perché riparte il Milan un minuto di recupero era stato concesso dal direttore di gara attenzione perché 40 secondi se ne sono già andati si fa vedere il Milan sul settore di destra ancora con Messias che dà il pallone per Leao poi ancora lo scambio con Olivier Giroud che è girato di spalle al limite dell'area di rigore non può fare niente c'è su di due Aslan ma c'è anche il duplice fischio del direttore di gara che non fa terminare l'azione e quindi si rimane con questo punteggio dopo i primi 46 minuti di gioco a San Siro Milan 1 Udinese 0 assegnato tanto per cambiare il solito Raffaele Leao alla mezz'ora al 29 su Asis di Tonali e allora ragazzi vi faccio vedere anche la classifica perché in questo momento il Milan balzerebbe al primo posto ma soprattutto ragazzi vi faccio vedere perché staccherebbe i propri cugini staccherebbe l'Inter con un buon margine di vantaggio anche se la formazione di Simone Inzaghi come sapete dovrà giocare proprio questa sera alle ore 21 contro il Genoa a Luigi Ferraris ma soprattutto avrà anche da recuperare la partita contro il Bologna al Dallara e quindi per il momento se i neroazzurri stasera vincono con il Genoa rimangono primi a un punto in più del Milan se invece stasera pareggiano perdono Milan che rischia una mini fuga tra virgolette mini fuga come si chiama il gruppo di Telegram Maurizio c'è il link lo potete trovare il link di Telegram è quello il messaggio che vi ho fissato in alto in azzurro non è un messaggio fissato perché almeno l'azzurro è bello è il mio colore preferito è il gruppo di Telegram quello lì fissato in alto in più vi metto anche Instagram perché abbiamo gli indici di schierabilità e la top 11 nostra che vi abbiamo messo su Instagram quindi seguitemi anche lì ok bravo Giancarlo che è entrato nel gruppo di Telegram bravi ragazzi entrate perché potete vedere i gol e gli highlights non ve ne scordate per chi non ha la possibilità di seguire le partite e in più vi ricordo di non uscire rimanete nel gruppo di Telegram perché stasera ci saranno anche i gol di Genoa Inter non solo tutto quello che volete intanto ringrazio Claudio Gerardini 43 per il follower su Instagram grazie infinite perché lì siamo quasi arrivati a 1220 se vi fa piacere veniteci a followare walk of sport mi trovate su Instagram vi ho messo il link in chat intanto voglio salutare anche dov'è Maurizio Maurizio Palma che gli ha scritto appunto gli ho detto il gruppo di Telegram si chiama Fanta Walk e lo potete trovare con il link che c'è su appunto la chat bomberina la mia ragazza la mia ragazza la chiamo così Stefania che è Juventina purtroppo ha questa pecca forse non conosce qualcuno chi è bomberina dice Francis esatto magari qualcuno che è nuovo non lo conoscono non la conoscono e quindi magari vedono queste emoti con bomberina e non riescono a capire chi sia giustamente comunque Instagram ragazzi ve lo sto ammettendo perché visto che è finito il primo tempo voglio ringraziare tutti i nuovi follower di Instagram se ci sono intanto togliamo il collegamento dallo stadio da San Siro che si sta facendo sentire veramente in maniera eccezionale con quasi 37.000 persone 36.000 se non mi ricordo male stasera giunte a San Siro per questo anticipo della 27esima giornata e soprattutto con il Milan che vincendo andrebbe come vedete alle mie spalle la classifica andrebbe a 59 a più 5 dall'Inter che però deve giocare la partita di stasera contro il Genoa fuori casa quindi partita difficile e recuperare contro il Bologna al Dallara la partita di campionato allora andiamo a vedere una cosa voglio vedere un attimo anche il fantacalcio perdonatemi visto che facciamo tre campionati guardiamo un po' il fantacalcio guardiamo 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 ok guardiamo un attimino eh sì allora guardiamo le prime posizioni allora ok 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 scusate ragazzi stavo guardando un po' le formazioni e il mio avversario come aveva messo Piazza Vlaovic Sanchez al mio avversario e invece di qua fatemi vedere allora per il momento qui sto vincendo 1 a 0 perché qui lì gioca in 10 scusate ragazzi sto guardando un po' le formazioni eh sto guardando un attimino le varie formazioni e i vari fantacalci perché sono in uno terzo in un altro sono secondo terzo a meno quattro dalla capolista e in un altro che faccio con Omar con fantatori fantacalcio siamo secondi a meno uno dalla prima posizione quindi diciamo che in tre fantacalci che faccio sono tutti in nelle prime posizioni e devo cercare di mantenerle il più possibile quindi diciamo che mi sto cercando di concentrare per mantenere quantomeno queste ultime partite di campionato sto cercando di mantenere quantomeno assottigliare la differenza con le prime posizioni intanto ragazzi se volete lasciate pollice in su e iscrivetevi se siete nuovi non ve ne scordate andiamo a leggere un po' di chat un po' di io vi lascio qui dietro di me la classifica vado a leggere un po' di chat mattia no stasera non porto l'inter perché a proposito ragazzi stasera sarò sul secondo canale walk of music moderatori mi spammate per favore il secondo canale walk of music alle ore 21 e 30 siamo in diretta con giovanni e con tutto lo staff di only one show sul secondo canale perché stasera per chi ci segue ormai lo sa noi siamo appassionati anche di musica oltre che di formula 1 e calcio perché qui ci sono anche le live reaction di formula 1 però abbiamo fatto un secondo canale con il nostro giovanni con il nostro giovi che è la mia spalla destra per darmi una mano sempre a fare le live reaction anche qui sul canale e c'è un talent musicale proprio su youtube sul nostro secondo canale partirà stasera con la scelta dei 20 20 concorrenti che si daranno battaglia per due mesi e mezzo quasi tre e da marzo fino a maggio inizio giugno quindi due mesi due mesi e mezzo dai non tre ci sarà appunto si daranno battaglia sul nostro secondo canale walk of music ok dove ci saranno i concorrenti che si scrivono canzoni si fanno gli assoli suonano strumenti si scrivono le canzoni e i testi loro e sarà un bellissimo talent il primo a livello di youtube italia per quanto riguarda questo genere si chiama only one show ragazzi e vi faccio vedere la live qual è così almeno solo per farvi capire il secondo canale di venirci a seguire perché stasera non portiamo l'inter solo perché c'è questa live in programma con il secondo canale altrimenti stasera eravamo eravamo con genoa inter domani sera saremmo con sassuolo fiorentina ve lo ricordo alle ore 21 comunque vi faccio vedere un attimino con il cattura schermo qual è il nostro canale ok un attimino il cattura schermo facciamo così eccolo qua questo è il secondo canale che vedete alle mie spalle si chiama walk of music vi stanno mettendo i link i moderatori in chat iscrivetevi e cliccateci perché siamo ancora pochissimi perché è normale è partito da dicembre anzi gennaio questo secondo canale però possiamo crescere perché partirà poi il talent come vedete al partirà ragazzi proprio a marzo quindi non vi scordate di iscrivervi al secondo canale per stasera essere presenti e vedere chi saranno i concorrenti di questo talent musicale che abbiamo strutturato e ringrazio tutti i ragazzi c'è uno staff dietro anche lì siamo una quindicina di persone per questo per questo talent ci sono tante belle cose ci saranno ospiti ci saranno sondaggi quindi voi dovrete votare anche chi preferite quindi ascolterete canzoni di loro dei ragazzi ci saranno degli inediti ci saranno delle prove da fare quindi una specie di tra virgolette x factor ovviamente con le dovute proporzioni proprio per walk of music ciao anto benvenuto in live un bacione al nostro antonio grandissimo benvenuto come stai intanto grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo e stanno lasciando i like grazie infinite perché siete veramente eccezionali veramente grazie 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 a proposito mi dite ragazzi se vedete sotto di me qui accanto alla chat una forbice la vedete una forbice c'è la possibilità di fare le clip me lo dite in chat se la vedete oppure no perché youtube da quello che ho capito mi ha mandato tramite email questa nuova funzione cioè la funzione di avere la possibilità di fare clip un po' come accade nella piattaforma viola no nella piattaforma viola per quanto riguarda amazon amazon l'altra c'è per caso accanto alla chat o qui sotto di me una una forbice perché la forbice vuol dire che potete fare le clip e mi potete anche taggare cioè mi potete taggare su instagram o dove volete e sono ah c'è la forbice loris sul computer si ok perché potete fare delle mini clip e ragazzi sui goal o su quello che succede sul canale da oggi o comunque da queste live se vedete la forbice sotto ci potete cliccare potete fare una mini clip che varia da un secondo a 60 secondi quindi a un minuto e mi ci potete taggare su qualsiasi social e io vi riposto ragazzi quindi se volete c'è questa possibilità dal telefono non si può ah ok dal telefono non è possibile pensavo di sì e invece mi avete diciamo peccato grazie a Orang gentilissimo per il follower gentilissimi a tutti quelli che si stanno iscrivendo ragazzi intanto ancora le squadre non sono entrate in campo e allora io direi di andare a prendermi un attimino un caffè velocemente perché poi le squadre rientreranno in campo siamo in più di 200 se vi fa piacere ragazzi iscrivetevi con la campanella attiva e lasciate like allora 215 like quindi non vi chiedo tanto 215 like ripartiamo poi con la cronaca reaction del secondo tempo mancano 10 like sono stato anche magnanimo metto un attimo la musica vado a farmi il caffè velocemente e ritorno subito a farmi il caffè a farmi il caffè a farmi il caffè a farmi il caffè la musica a farmi il caffè Grazie a tutti 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 Marco Grazie a tutti 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 E qui Grazie a tutti 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 con il tra i Se tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo in Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutti e vi sto Grazie a tutti 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 Udoji Grazie a tutti 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 Per quanto Grazie a tutti 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 su Amazon Grazie a tutti 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 Grazie a tutti